Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo del Deuter Freescape Lite da 26 litri. Uno zaino tanto buono per l'alpinismo quanto per lo sci alpinismo. Adesso insieme ne vediamo pregi e difetti all'interno dell'accensione completa. Iniziamo come al solito dallo schienale, questo Freescape Lite. Qui troviamo la tecnologia Deuter Lite, ovvero troviamo uno schienale che va naturalmente a contatto con la nostra schiena, che ha dei pad morbidi nel punto in cui va principalmente a scaricare il peso e questi pad garantiscono anche traspirabilità. Devo dire che al punto di vista della traspirabilità questo zaino è abbastanza nella norma. Non è sicuramente il suo punto forte, ma non è nemmeno il suo punto debole, è proprio nella norma. E per quanto riguarda invece la stabilità tra schienale e fascia lombare, devo dire che lo zaino è veramente molto stabile. Anche caricato con piccozze, corde e via dicendo, anche proprio caricato fino agli 8-9 kg massimi che vi consiglio di portare, devo dire che è uno zaino veramente molto stabile. Vi ho già spoilerato quanti kg ci andrei a portare, 8-9-10 proprio al massimo massimo massimo, ma secondo me è già 8, siamo al limite. In generale la fascia lombare è abbastanza destrutturata, infatti la maggior parte del carico va a cadere sulle spalle in questo caso. È una fascia lombare che ci consente di tenere quasi più fermo lo zaino rispetto che andare a scaricare il peso. Sulla parte di destra poi troviamo una classica taschina dove andare a riporre una barretta, qualche oggetto, e nella parte sinistra invece non troviamo niente, è proprio vuoto. Abbiamo poi un'ulteriore tasca sulla parte dello schienale, ma che vado ad aiutarci a tenere qualche altro oggetto, che è direttamente raggiungibile dalla parte destra dello zaino. Infatti qua, per esempio, possiamo andare a riporre il nostro classico telefono. È una tasca aggiuntiva che non è presente magari sulla fascia lombare, ma è stata messa sulla parte posteriore dello zaino. Per quanto riguarda la chiusura anteriore, questa classica formata da una clip lavora molto bene, anche a pieno carico mi sono trovato veramente molto bene. A livello di spallacci, devo dire che loro hanno una sezione abbastanza piccola, però comunque comoda. Sono ben imbottiti, anche quando trasportiamo i nostri 8 kg non ci danno fastidio, e poi sulla parte pettorale abbiamo la classica fibia, andare a chiudere con l'interno del fischietto. Passando alla parte posteriore dello zaino, iniziamo da uno dei due lati che sono 6 metri, quindi ne vediamo solamente uno. Nella parte inferiore troviamo una fettuccia affissata, rigida, che è perfetta per andare a infilarci lo sci, perché poi nella parte superiore invece troviamo una fettuccia apribile per andare a fissare la parte superiore dello sci. Dunque all'esterno, come ho detto, possiamo portare benissimo degli sci, possiamo portare anche una corda, fissandola con la clip superiore, possiamo portare anche delle ciaspole volendo. Diciamo che comunque la parte laterale sono veramente molto molto semplici. Quello in cui differiscono è che, come vi ho detto prima, sulla parte laterale di destra c'è la taschina dove andare a riporre il telefono. Sulla parte laterale di sinistra invece c'è una disabilità che corre a tutta lunghezza dello zaino, ci permette di andare a poter prendere il materiale che abbiamo all'interno, senza dover andare a svuotare lo zaino, tutte le volte dobbiamo prendere qualcosa che sta nella parte bassa dello zaino. Parlando della parte posteriore vera e propria, Beh, innanzitutto salta subito all'occhio la possibilità di mettere le piccozze, infatti nella parte bassa troviamo i classici anelli porta piccozza, e qua si stanno benissimo, se ho due piccozze che anche un casco, perché in una tasca troviamo anche l'emmelt holder per poterlo trasportare. Questa tasca in cui c'è l'emmelt holder, comunque è ben sfruttabile perché è bella alta, ci stanno all'interno per esempio le pelli o una cartina. Troviamo un'ulteriore tasca apribile a tre quarti in cui andare a inserire pala e sonda. Questa tasca è proprio dedicata al kit di sicurezza, è esterna allo zaino proprio per poterci arrivare velocemente in caso di necessità, e cosa molto interessante è che la parte inferiore della tasca è anche rinforzata per evitare che la pala possa tagliare lo zaino. Comunque è una tasca abbastanza grande che, se voi doveste utilizzarlo per fare alpinismo, potete metterci all'interno qualche altro oggetto senza magari portarevi dietro la pala e la sonda. Infine poi, per quanto riguarda la parte posteriore, in dotazione con lo zaino sono date due cinghie da poter utilizzare per attaccare fuori gli sci in diagonale, per esempio, o poterci attaccare anche le serro delle ciaspole, dei ramponi e via dicendo. Per quanto riguarda la chiusura superiore, questa è molto classica, con un cordino ad andare a tirare per chiuderlo, e per quanto riguarda la parte superiore del cappuccio non è rimovibile, è comunque molto leggera, cioè se non ci mettete dentro niente è veramente un foglio molto sottile, e se invece la volete sfruttare come tasca è abbastanza profonda, comunque ci sta all'interno un bel po' di roba. E purtroppo però di tasche abbiamo solamente quella esterna, non c'è anche quella interna. Per quanto riguarda il comparto acqua, possiamo portare all'interno una vescica fino a 3 litri d'acqua, non abbiamo tasche dove andare a riporre delle borracce esterne, le dovremo mettere per forza all'interno, e inoltre non c'è nemmeno il rain cover, perché essendo lo zaino d'alpinismo, c'è alpinismo, non è presente, ma lo zaino diciamo che è un pelino idrorepellente, nel senso che se ci prendete una leggera pioggia non avrete problemi, ma in caso di un acquazzone, allora sì, tutta la roba all'interno si bagnerà. Parlando di materiali, lui è realizzato con un nylon ripstop 100 denari. Allora, diciamo che 100 denari è un nylon abbastanza sottile, per andare a ridurre naturalmente il peso, perché lui pesa solamente 1,180 kg, ma non è il nylon sicuramente più resistente. A me è capitato che strusciandolo contro qualche roccia si aprisse qualche piccolo buchino sullo zaino. Diciamo che se state cercando uno zaino con il quale andare a fare magari delle vie alpinistiche dove si struscia tanto su roccia, non è proprio l'ideale lui, ecco. Arriviamo dunque alle conclusioni per questo Deuter Freescape Lite da 26 litri. Iniziando dal prezzo, perché viene venduto la Deuter a 190 euro, online la si trova sui 120-130 euro. Ve lo consiglio, sì, perché secondo me è un ottimo zaino da alpinismo e scialpinismo. Se siete degli scialpinisti che stanno cercando uno zaino da scialpinismo, lui è perfetto. Ma è perfetto anche nel caso in cui dovesse andare a fare alpinismo, quindi davvero uno zaino tutto fare per questo due sport. Come vi dicevo solamente se volete andare a fare dell'alpinismo veramente spinto, in cui si struscia tanto su roccia, in cui c'è da avere proprio uno zaino bello strong, ecco, lui magari non è proprio il modello ideale. Ci sono altri modelli Deuter che hanno sicuramente una durabilità da questo punto di vista maggiore. E detto ciò ragazzi, una speranza sia stato esauramente sostitivo anche per questa recensione. Vi ringrazio la guardata e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!